L'abitacolo della Mia 208, volante, cambio, freno a mano, console dei comandi e display, frizione, freno e acceleratore. Sparte, si è acceso il bag. Prima, seconda, terza, quarta, staccatona, terza, seconda. Sente bene l'assetto qui della macchina, ora si sale di marce, il motore sale perché abbiamo ora un bel motore per il turbo. Ottima è la precisione anche nello stretto qua, è importante anche nel destra-sinistra ad avere una macchina precisa migliore rispetto a quelle stradali, cioè che posso pelare i muretti e passare vicino. Ma guidata sempre un po' di coppia perché abbiamo il motore turbo, buona frenata, direi ottima rispetto al Super 2000, molto meglio. Nelle curve lente si può dare un tocchetto di freno a mano che fai girare il posteriore. I preferenziali sono tutti meccanici per cui non abbiamo nessun aiuto elettronico. Peugeot 208 T16, io la guido così.